I tre consigli che vi posso dare sulla lettura sono molto legati a questa logica del non vedere la lettura come un obiettivo o come un compito. Quindi il primo consiglio è di creare un ambiente e una modalità che faccia affezionare il bambino a questo processo che apre le porte della fantasia e non le chiude su un obiettivo che è finire di leggere la pagina. Il secondo consiglio è di scegliere qualunque libro sia a interesse del bambino. Terzo consiglio è che se vedo che un bambino non è interessato al libro non ho l'obbligo di finire quel libro perché questo può creare il compito. Leggere una storia insieme deve essere una porta aperta, non deve necessariamente avere una fine o un giudizio sul bello e sul brutto.